Tra le finalità della comunità montana Valli dell'Ario e del Ceresio si annoverano la mobilità sostenibile e l'ospitalità diffusa. La comunità è impegnata in un maggiore collegamento e una mobilità più sostenibile tra le vallate e tra queste e la vicina Svizzera, sia per finalità turistico-ricreative, sia per un discorso storico-culturale. Di interesse primario è la pista ciclabile, che ricalca il tracciato dell'ex ferrovia e funge da collegamento tra i percorsi di interesse storico, quali l'antica via Regina, tra aree di rilevanza ambientale e tra i musei del territorio. Inoltre, la comunità incentiva la promozione dei percorsi di collegamento con la Svizzera, quali la via del Ferro e la foresta demaniale Val Sola. Infine, il potenziamento della navigazione permette ai cicloturisti che arrivano in Ticino di raggiungere la pista della comunità montana e a menaggio imbarcarsi alla volta di altre piste ciclabili già presenti sul territorio, quali la pista ciclabile di Bellagio. La comunità montana è inoltre impegnata a migliorare l'integrazione tra ricettività turistica e ambiente con il recupero delle strutture architettoniche tradizionali, locali, pubbliche e private da adibire ad albergo diffuso. Tali interventi sono volti a migliorare la pianificazione dell'offerta ricettiva, soprattutto incentivando forme di accoglienza che utilizzino il patrimonio edilizio esistente al fine di ridurre il consumo di suolo e tutelare in tal modo il patrimonio naturale e il paesaggio, elementi di attrattività dell'aria.